Si tratta di un contributo a fondo perduto per sostenere le attività commerciali di fiori e piante colpite dalla pandemia per un ammontare di 5 milioni di euro destinati alla copertura delle perdite. A beneficiarne saranno le piccole e le medie imprese con sede in Sicilia con meno di 250 addetti e un fatturato anno non superore a 50 milioni di euro. I contributi sono finalizzati a dare liquidità alle imprese fino ad un massimo di 3.500 euro. I contributi a fondo perduto andranno alle imprese che esercitano attività commerciali sia all'ingrosso che al dettaglio di fiori e piante e includono aziende di produzione e composizione di fiori e piante naturali e artificiali, nonché gli agenti e rappresentanti di fiori e piante. Il contributo sarà calcolato sulla base del rapporto fra dotazione finanziaria diviso il numero di stanze presentate e ritenute ammissibili. L'iniziativa Bonus Sicilia Fiorai partirà giovedì e interessa un bacino di circa 700 aziende nell'isola.